Ben trovati spettatrici e spettatori a un nuovo appuntamento con l'informazione di Noi TV. Apriamo tornando sui risultati delle elezioni amministrative perché a Capannori è già tempo di passaggio di consegne. Il sindaco uscente Luca Menesini consegna la fascia di primo cittadino a Giordano Del Chiaro. Inizia così il quinto quinquennio consecutivo del centro-sinistra a Capannori, il giorno dopo la vittoria al primo turno dell'ex assessore all'ambiente che ha addirittura superato il 62% dei consensi. Per Del Chiaro è stata anche l'occasione per sedersi per la prima volta su una poltrona, quella del sindaco, che può dare tante soddisfazioni ma anche notevoli grattacapi. Ma il nuovo sindaco affronta questa avventura sulle ali di un giustificato entusiasmo. Un'emozione indescrivibile questa mattina, il giorno dopo lo spoglio, il giorno dopo una grandissima fiducia che i capannoresi ci hanno consegnato, che i capannoresi hanno riposto in noi e che ripagheremo con tutta la forza, la passione e l'impegno possibile per realizzare i tanti progetti che abbiamo costruito insieme alla nostra comunità in questi mesi. E nel primo incontro con la stampa, con indosso la fascia tricolore, Del Chiaro ha annunciato la partenza immediata di due progetti su cui ha puntato molto nel corso della campagna elettorale. Tema sanità, pronto dottore con tre centri medici per accedere in modo semplice alle visite specialistiche e pronto intervento un numero verde a cui i cittadini potranno segnalare le urgenze dei paesi e che nel giro di 24 ore troveranno una risposta. Intanto si fanno i conti su chi ha ricevuto il maggior numero di preferenze alle elezioni. Il record è stato conquistato per la seconda volta consecutiva da Matteo Francesconi con 1.481 voti. Il vice sindaco uscente ha superato anche Luca Menesini, entrato però più tardi nella competizione elettorale, che è arrivato a 1.295 preferenze. Cambiamo argomento, andiamo a Lucca dove è iniziata sulle mura l'installazione delle balaustre anti-caduta. Ecco le nuove balaustre sulle mura di Lucca. Le prime sono state posizionate sopra Porta Sant'Anna e serviranno a diminuire il pericolo di eventuali cadute dal versante interno del monumento. Verranno installate con la stessa funzione anche sulla cortina tra il Caffè delle Mura e il baluardo San Paolino, tra il baluardo San Martino e Porta Saiacopo e su altre cortine e rampe di accesso. L'installazione delle protezioni era stata al centro di una grossa polemica durante il secondo mandato Tambellini. L'attuale assessore con delega alle mura, Remo Santini, allora consigliere d'opposizione, si era battuto per limitare la posa delle balaustre, inizialmente prevista sul 90% del perimetro delle mura. E l'amministrazione Pardini, in effetti, ha ridotto notevolmente il progetto originario. Rispetto al precedente progetto, quello dell'amministrazione Tambellini, le balaustre saranno ridotte di due terzi. Queste protezioni verranno messe soltanto ed esclusivamente nei punti a rischio caduta. Quindi non ci sarà una linea continua nel paramento interno, ma semplicemente una scelta di quelle che sono le zone dove si poteva cadere. Quindi siamo soddisfatti e crediamo che nel giro di poche settimane i lavori possano essere completati. Se sul versante interno delle mura si posizionano le balaustre, su quello esterno si sta già procedendo con un'altra operazione sicurezza, la rissagomatura dei parapetti. E in estate partirà anche il montaggio di elementi in ferro battuto per aumentare la sicurezza dei castelli delle porte. E adesso vi portiamo in Versiglia, più precisamente a Forte dei Marmi, dove le vie dello shopping si sono rifatte in look. Una Forte dei Marmi cucita su misura per pedoni e bici e dove le auto circolano sempre meno. Un obiettivo che si raggiunge anche attraverso il restyling dell'arredo urbano, proprio come quello realizzato sui 4200 metri quadri della zona calda dello shopping, con un intervento a tempo di record da 2 milioni di euro. Non è soltanto la pavimentazione, qua c'è tutta una serie di sottoservizi estremamente importanti. È una zona che prende un nuovo aspetto e soprattutto caratterizza un paese come Forte dei Marmi, sempre più bicicletta, sempre più a piedi. E questo è un segnale forte, via l'asfalto e sulla pietra e cambiamo completamente il paese. Le opere consegnate con un mese di anticipo sulla tabella dei lavori hanno interessato, nello specifico, via Carducci da via Spinetti a via Vittorio Veneto, via Montauti da piazza Garibaldi a via Veneto e via 4 Novembre da via Stagi a via Matteotti. E a proposito di strade, riapertura record a Camaiore per via Balza Fiorita. Dopo soli tre mesi da quando il maltempo ha causato la frana che ha interrotto via Balza Fiorita tra Monteggiri e Laculla, la ditta incaricata dal comune di Camaiore ha terminato i lavori per la realizzazione della corsia, che ha consentito di riaprire l'elevabilità anche se per adesso a senso unico alternato regolato da un semaforo. L'opera però è già propedeutica per il successivo intervento, quello che riguarderà il versante a valle in modo da realizzare l'intera corsia e riaprire la strada al traffico normalmente. Lavori già finanziati dalla Regione Toscana per 350 mila euro. Praticamente adesso noi abbiamo anticipato questa corsia, che è già un lavoro proprio deutico alla realizzazione complessiva della strada. Sostanzialmente abbiamo fatto una corsia mettendo in salvaguardia il versante del monte. Adesso con le risorse che ci ha dato la Regione Toscana e quindi colgo l'occasione anche per ringraziare il Presidente Gianni che ancora una volta è stato molto sensibile alle esigenze del mio comune, andremo a fare una palificata anche sulla parte a valle della strada che consentirà all'allargamento e la realizzazione della seconda corsia. Al sopralluogo per la riapertura della strada, oltre all'amministrazione di Camaiore e alla ditta esecutrice, era presente anche il neo riconfermato sindaco di Stazzema. Questa viabilità infatti, pur di competenza di Camaiore, è quella principale per raggiungere Sant'Anna. È un'infrastruttura importante perché collega il Parco Nazionale della Pace e quest'anno è l'ottantesimo anniversario della strada di Sant'Anna e di Stazzema e finalmente non ci sarà nessun ostacolo per raggiungere il Parco Nazionale della Pace. È tutto per questa edizione, ringrazio Matteo Bertuccelli in regia e lascio la linea a Guido Casotti con il Tg Sport. Grazie a tutti.